E' Loretana Bertè la vincitrice del talent show Star in the Star che mi ricordo è terminato ieri 14 ottobre 2021 e che ha visto trionfare proprio la famosa cantante italiana per eccellenza. Si è concluso il talent ovviamente non sono mancate le polemiche che lo hanno riguardato da vicino per colpa di una grandissima somiglianza con programmi tv quali tale e quale show mi ricordo è il cantante mascherato tuttavia sta di fatto che a vincere proprio non la puntata ma proprio il programma ossia Star in the Star è stata proprio Loretana Bertè che è stata capace in grado di far fuori nel gioco ovviamente di sconfiggere nella finalissima mina e prima ancora Lady Gaga e addirittura Michael Jackson ovviamente interpretati si fa diciamo così chiaro. Insomma devo dire che è stata molto brava Loretana Bertè si prende diciamo così la vincitata o meglio la vittoria e questa prima edizione termina qua una prima edizione condita però non da ascolti efficaci non da ascolti elevati ma da ascolti veramente bassi e veramente azzardo a dire miseri. Vi ringrazio per l'ascolto il video termina qua per la visione di questo video iscrivetevi al canale narratore italiano commentare ciao a tutti e al prossimo video